La Gelbison ritrova la vittoria dopo cinque giornate e lo fa a spese del Manfredonia, nonostante i tifosi rosso-blu non abbiano accolto l'invito della società a riempire gli spalti del Vaudano di Capaccio. A decidere il match le reti di Bubas e Kosovan, un gol per tempo intervallato da quella di Carbonaro per i Sipontini. La gara si sblocca poco dopo la mezz'ora grazie al penalty assegnato ai Cilentani per il fallo subito da Casiello. Alla battuta va Bubas che supera Borrelli. Cilentani nel finale di tempo vicini al raddoppio con Casiello ma la sua conclusione si ferma sul palo. Nella ripresa tra le fila della Gelbison si rivede l'attaccante croce ma è il Manfredonia a trovare il pareggio anche questa volta per un tiro dal dischetto. De Pace commette fallo in area e l'arbitro assegna il rigore che Carbonaro trasforma spiazzando Milan. La Gelbison si getta in avanti e al 33esimo va di nuovo in rete con un bel tiro al volo di Kosovan per il 2-1. Il Manfredonia ci prova fino all'ultimo ma nonostante sei minuti di recupero il punteggio non muta e la Gelbison con i tre punti vede avvicinarsi sempre di più il traguardo salvezza. Giovedì i rosso-blu Cilentani saranno impegnati a Bitonto.